Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Ex tronista di Uomini e Donne, influencer di successo, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, scrittrice di un libro per mamme, e ora anche conduttrice televisiva. Sì, stiamo parlando di Rosa per Rotta. La talentuosa Rosa è stata scelta da Warner Bros Discovery per una nuova avventura televisiva su Real Time, ogni sabato pomeriggio. Il programma, intitolato A Testa Alta, vede Rosa affiancata dal curatore di stile Mario Mosca e dal dottor Domenico Campa, specialista in chirurgia estetica. Il trio ha il compito di guidare le protagoniste del programma nel loro percorso di trasformazione. Durante il debutto di A Testa Alta, Rosa ha condiviso con il pubblico un toccante messaggio. La cosa più bella che mi dice chi mi conosce da quando ero una bambina è, sei rimasta la stessa ragazza ambiziosa di sempre, frutto di tutte le cose che ti hanno insegnato mamma e papà. Questi insegnamenti mi hanno permesso di realizzare i miei sogni. Sono grata per tutto ciò che ho imparato, e desidero trasmettere questa ricchezza ai miei figli. Voglio anche ringraziare voi, il mio pubblico, per la fiducia che mi avete sempre dato. Condividere storie di vita con voi è un vero onore. A Testa Alta, sempre Siete il valore che vi date Vi voglio bene, Rosa E voi, avete avuto l'occasione di vedere Rosa per rotta in azione? Che ne pensate? A voi i commenti! Grazie